Sì, io ringrazio il Presidente, intanto perché il Presidente ha usato una parola che mi ha fatto molto... 18 e 53 minuti, Radio Radicale, state ascoltando il convegno, quale democrazia, con quali costi, che siete venuti a Roma il 14 dicembre scorso. Sgombrare subito il campo da una cosa, cioè noi siamo amici della politica, questo sia chiaro. Non ci toccate il Parlamento perché andiamo in montagna col fucile, chiaro? Questo va detto, lo diciamo subito, perché guai a chi ci tocca il Parlamento. Per cui come noi non facciamo di ogni erba un fascio, non facciamo di ogni erba un fascio, fra razzi e come dice perché lui sta là e perché vota così e che cosa gli interessa, non lo confondiamo con tantissime persone per bene che ci sono in Parlamento, così vi preghiamo di non confondere me e Sergio con altri. Perché noi non abbiamo mai scritto la parola magna magna in vita nostra, per esempio, se non in funzione polemica per prendere in giro qualcuno che lo diceva. Ma noi mai ci siamo sognati di, come dire, inquadrare i parlamentari come magna magna. Noi non abbiamo mai usato queste parole. Noi abbiamo cercato di distinguere. Del resto, scusate, il libro, lo dico tra virgolette incriminato, perché so che voi siete stati così cortesi da non dirlo in questo modo, che la casta comincia con una dedica ai nostri bambini perché si appassionino alla politica però diversa. Questa è la dedica della casta. E tutto il nostro lavoro in questi anni è dedicato a questo. Allora, vado a Saltoni perché nei punti sono stati veramente tanti. Sinceramente noi non ci riconosciamo nella parte di bigliosi fustigatori, ma proprio per niente, ma proprio per niente. Noi abbiamo semplicemente cercato di spiegare in questi anni alcune cose che vanno cambiate e men che meno ci siamo accaniti sull'indenità parlamentare o sui vitalizi. Abbiamo dedicato un pezzetto delle nostre inchieste a questi temi. Ci si invita a occuparci anche di altri, ma noi abbiamo scritto la deriva in cui abbiamo messo dentro, per esempio, ho visto che si parla di stipendi, che Romiti prendeva l'equivalente di 21 stipendi di un operaio Fiat, di un dipendente Fiat, e Marchionne prende l'equivalente di 178 stipendi di un dipendente Fiat. Non è che abbiamo fatto sconti agli altri. La liquidazione di Arpe, per esempio, che è stata la più stratosferica dalla Banca di Roma, le abbiamo segnalate tutte. Il discorso che faceva mi ha fatto molto piacere che il Presidente Mancino l'abbia trattato del costo delle regioni. Beh, noi l'abbiamo trattato tutto. Abbiamo spiegato, per esempio, che la Regione Lazio non ha senso che abbia un procapite rispetto ai parlamentari, cioè collaboratori in tutti i sensi del deputato locale, che è triplo rispetto alla Camera o al Senato. Non ha senso. Abbiamo queste cose qua, su quello che non funziona nei Parlamenti regionali, l'abbiamo scritto. Non ha senso che il Parlamento regionale, Lombardo, costi 7,7 euro procapite, rispetto alla propria popolazione, e che ce ne siano altri che costano 50. non ha senso. L'abbiamo fatto questo discorso per i Parlamenti locali, l'abbiamo fatto per i Comuni. Non c'è nessun Paese al mondo in cui con certi trucchetti tipo farsi assumere dall'azienda della mamma e farsi triplicare, quadruplicare lo stipendio per poi chiedere il rimborso per le ore in cui si manca in ufficio e poi aggiungerci magari un trasferimento della residenza a Cefalù o ad Alcamo, un consigliere comunale palermitano non può arrivare a prendere 10.000 euro. Non può. Non può. Non ha senso che ci si dica che le province sono indispensabili. c'è l'ultima lettera mandata da Giuseppe Castiglione alla Corte dei Conti in cui mancano soltanto le locuste dell'abisso nel quadro apocalittico che pare che non ci sia ente più indispensabile al mondo delle province. Dopodiché mi chiama il Presidente della provincia di Bari per chiedermi di partecipare a un dibattito sui costi della politica la segretaria dice glielo posso passare? Sì, sì, dream, 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 pronto scuri un momento esco dalla sala operatoria ma se tu vai a operare in ospedale non può essere così indispensabile il tuo lavoro di Presidente? Non so se mi spiego lo dico con amicizia ma non è possibile se fare il Presidente provinciale è un lavoro pazzescamente pesante non devi avere il tempo per respirare non puoi avere il tempo di tenere l'ambulatorio vi invito ad andare a guardare su internet c'è la possibilità di prendere appuntamenti in ambulatorio e andare poi la mattina a operare in ospedale fare contemporaneamente il Presidente di una cosa assolutamente indispensabile e allora io credo che senza voglio dire un eccesso un eccessivo carico di polemica però è tutto un sistema che secondo noi va ridisegnato perché non funziona è sotto gli occhi di tutti che non funziona mi pare, no? Per quanto riguarda i dati ad esempio può darsi che adesso voi sapete che la statistica è una cosa complicata puoi tirare da una parte e tirare da quell'altra noi non non pretendiamo che i nostri dati abbiano siano assolutamente però noi citiamo sempre da dove li prendiamo sempre noi diciamo questo viene dall'Istituto Bruno Leoni questo viene dal Professor Antonio Merlo della Penn University e davanti a certi dati effettivamente perché per esempio l'Istituto Bruno Leoni dice che il Parlamento costa 26,33 euro l'anno a ogni cittadino italiano contro 13,60 di ogni cittadino francese 10,19 di ogni cittadino inglese noi citiamo da dove li abbiamo presi questo lo dice l'Istituto Bruno Leoni che ci sembra un istituto abbastanza serio andiamo avanti l'aumento del 9% l'anno del complessivo introito diciamo così di un parlamentare non è un dato nostro è del Professor Antonio Merlo che è il Capo del Dipartimento Economico della Penn University che su queste cose lavora da anni che è quello che poi ha fatto il confronto con le realtà per esempio regionali da cui viene fuori che il più strapagato dei governatori americani cioè il governatore dello Stato di New York prende infinitamente meno infinitamente meno del governatore del Molise c'è qualcosa che non funziona o siamo noi che ce lo siamo inventato questo tema chiudo noi qui siamo ospiti della Camera in uno dei palazzi nei cosetti palazzi marini la democrazia guai se ce la tocchi ma non confondiamola con altre cose voglio dire in valuta attuale la Camera spende per affitti di dependance 41 volte non il 41% di più 41 volte di più che nel 1983 una delle due o nel 1983 non c'era la democrazia o c'era meno democrazia con la presidenza della Camera in mano a Nilde Iotti la presidenza del Senato in mano a Cossiga Sandro Pertini a Palazzo Chigi e metà Spadolini e metà Craxi a Quirinale scusate e metà Spadolini e metà Craxi a Palazzo Chigi o c'era meno democrazia allora o c'è qualcosa perché non va c'erano meno servizi perché sì ma 41 volte è stato l'aumento chiedo scusa siccome il reddito pro capita italiano nel frattempo è cresciuto del 40% cioè fra il 40% e il quanto è il 4100% c'è una differenza io credo per cui penso e mi fa piacere che sia stato di aver sentito le parole sia di Gerardo Bianco che ringraziamo per l'invito sia del Presidente Mancino e sono interessato a sentire anche poi quello del Presidente Bertinotti credo che sia utile che davvero su queste cose ci si confronti senza fare di ogni erbo un fascio sui giornali e senza anche però fare una difesa prego il titolo la casta di per sé contraddice che è un indicio a non fare di poterlo a tutti che le hanno fatto quel titolo sta proprio a fare questo indice che a fare tutti le hanno fatto questo per favore se la difesa allora se c'è una difesa in qualche modo spesso ha critica nei confronti di queste cose per cui vi tenete tutti insieme voi è automatico che dall'altra parte ci sia una reazione uguale e contraria mi perdoni con tutto con tutto il rispetto eh sia chiaro però comunque vado a chiudere 19 e 4 minuti Radio Radicale state ascoltando il dibattito quale democrazia con quali costi che siete tornati a Roma il 14 dicembre scorso che si vada a una trasparenza totale su queste cose qua perché poi la trasparenza è quella che aiuta a giudicare e la trasparenza poi liquida anche il qualunquismo che c'è in alcune posizioni nel quale noi assolutamente non ci riconosciamo rendiamo tutto trasparente e facciamo un esempio il più ovvio possibile no? cioè in Inghilterra il presidente il premier David Cameron mette su internet anche il fatto che il suo allenatore personale gli ha regalato alcune ore di allenamento a casa questa cosa qua può essere sembrare addirittura eccessiva però vogliamo dire che c'è uno squilibrio abissale fra quella trasparenza e il fatto che un signore per motivi a volte anche inconfessabili può regalare 50 mila euro cioè l'equivalente di 100 milioni a un partito senza doverlo restando anonimo c'è una contraddizione in questo o no? Rendiamo tutto trasparente sarà più facile capirci tutti quanti grazie ringraziamo il dottor Stella a su Grazie.